Complessivamente sono abbastanza contento, l'emozione è stata veramente tanta, mi sono divertito un sacco, però pretendo molto più da me stesso. Sicuramente è un'emozione unica perché io sono cresciuto con questa società, tengo tantissimo questa squadra, questi tifosi e oggi sono stato veramente contento di aver coronato il mio sogno. Negli anni passati comunque sono sempre andato complessivamente bene con le giovanili, quindi mi aspettavo di esordire molti anni fa, così non è stato, però ho avuto pazienza, mi sono allenato e oggi è arrivato il giorno che volevo.